Sostenere che il significato esista solo nel piano linguistico significa negare questa stessa posizione. Infatti, se il significato esistesse solo nel linguaggio, vorrebbe dire che fuori dal linguaggio la realtà non significhi nulla. Cioè, vuol dire che niente sia determinato. E quindi vuol dire che al di fuori del linguaggio non ci sarebbe neanche una contrapposizione, una differenza tra il linguaggio e la realtà al di fuori del linguaggio. Perché una qualunque differenza è tale solo se c'è una determinatezza di ciò che è in differenza, in distinzione, in opposizione. E allora la posizione di chi sostiene che le cose non abbiano di per sé un significato, che il significato esista solo nel linguaggio, è immediatamente autocontraddicentesi, autonegantesi, perché per valere deve assumere che quello che dice valga solo nel linguaggio. E quindi sta già istituendo una differenza extralinguistica tra linguaggio e mondo. Quindi sta già dovendo portare al di fuori del linguaggio quella significanza che vorrebbe relegare solo nel linguaggio. Nel linguaggio nel senso del linguaggio dal punto di vista linguistico, perché la semantica, il piano semantico, come ha mostrato Severino, non si riduce al piano linguistico. Proprio perché tutte le cose, innanzitutto, significano ciò che esse esprimono immediatamente, al di là di qualunque termine. Cioè esprimono di essere un contenuto determinato che non è un puro nulla, e che ha la propria peculiarità, la propria determinatezza, rispetto alla quale appunto mostra di non essere un puro nulla e anche di non essere qualunque altra cosa. Allora, siccome essere qualcosa di distinto da qualsiasi altra cosa e dal nulla significa già significare queste cose, è automaticamente mostrato che la significanza originaria è qualcosa che precede il piano linguistico. Non dico il piano del linguaggio, perché si potrebbe intendere anche col linguaggio proprio la semantica, quindi in senso più esteso. Con piano linguistico mi riferisco al piano dei termini, delle parole. Il significato è oltre. E poi, tra l'altro, chi ritiene che il significato esista solo nelle parole, sta anche commettendo una petizio principi. Oltre che a sostenere una tesi autocontraddittoria e autonegantesi, sta anche proponendo questa ipotesi sulla base di una petizio principi, ovvero l'assumere come certo che esista un linguaggio e magari storicamente determinato. Che cosa voglio dire? Certamente non si può negare che appaiano le parole, i termini, e che assieme ad essi appaia anche il loro significato. Il significato che gli viene attribuito nella terra isolata. Che cos'è la terra isolata? Beh, secondo le tesi di Severino, la terra isolata è la dimensione dell'apparire finito, quello della nostra esperienza, che è il contrasto tra la verità e l'errore, il contrasto tra la verità che tutto è eterno, e la persuasione anichirista del divenire, secondo cui tutto è diveniente, e le cose oscillano tra l'essere e il non essere, dove per cose si intende un qualunque aspetto positivo della realtà, quindi anche una determinazione, anche una relazione, uno stato di cose qualsiasi. Allora, è un'ipotesi, quindi non solo autonegantesi, quella che sta qui venendo confutata radicalmente, ma anche affetta da petizio principi. Certo, in realtà avrei dovuto iniziare con il rimarcare che è una petizio principi, che è fondata su di quella, perché il fatto che sia poi autonegante, sia autocontraddittoria, la confuta radicalmente, le motivazioni che ho esposto prima sono più cogenti di quella che sto per spiegare più nel dettaglio. Ma, a prescindere dall'ordine, diciamo, delle motivazioni per cui questa ipotesi è sbagliata, la petizio principi consiste nell'assumere che il linguaggio esista realmente, cioè che esista veramente una struttura linguistica che si è formata nel tempo, e che invece il linguaggio non faccia parte della persuasione anichilista e che in realtà esista solo la realtà, che significa immediatamente ciò che è e che in questo suo significare immediato include anche le parole che rappresentano l'idea che esista un linguaggio. Attenzione, non sto negando che esista una coerenza spaventosa, una organizzazione spaventosa nella connessione di tutti i significati che appaiono costituire un linguaggio. Quello che però nego è che, come posso dire, questo linguaggio, qualunque linguaggio umano, abbia il senso che gli viene conferito all'interno della prospettiva anichilista, ovvero di essere un mezzo che l'uomo avrebbe prodotto per indicare dei contenuti. Quindi, l'unica evidenza che appare finora è che ogni volta che pensiamo, appare in noi l'esperienza del pensare un certo termine, appare anche un concetto corrispondente, se ovviamente in noi appare anche la conoscenza di quel termine. Ma questo non dimostra però che le parole siano portatrici dei significati, che il linguaggio racchiuda esclusivamente il significato e il significare. È vero che le parole appaiono come ciò che denota un contenuto, un referente, ma questo non dimostra che il significato non possa apparire anche in altri modi, solo perché finora è apparso così. A parte che, lo ripeto, anche osservare un qualunque contenuto sensibile testimonia il fatto che quello che appare significhi qualcosa. Anche se noi non sapessimo cosa significa, tra i vari significati immediati che ogni cosa ha, vi è quella di essere appunto un qualcosa di determinato e non un nulla. Quando dico determinato, non intendo dire determinato per forza, per come ci si aspetta nella concezione della terra isolata, ma determinato semplicemente rispetto a tutto quello che appare immediatamente. se io vedo una pianta, poniamo che un animale veda una pianta, anche se l'animale non sa che quella configurazione ha lo stesso significato che, cioè, anche se per la coscienza dell'animale, quello apparire della pianta non rappresenta la stessa cosa che rappresenta per noi, perché nella nostra consapevolezza umana il significato pianta è molto più ampio, noi abbiamo una grande conoscenza a livello di botanica e che quindi ci dà un senso diverso della pianta rispetto a quello che appare a un qualunque altro animale. Però quella configurazione verde, o qualunque sia il colore che appare in qualunque animale che ne ha esperienza, è una configurazione che appare significare quella configurazione, non un'altra. cioè, ha quel significato di essere qualcosa che non è le altre e di essere un qualcosa che non è un puro nulla. E l'animale, gli animali, proprio perché intuiscono questa opposizione determinata e significante, si regolano di conseguenza. Se le cose che appaiono anche agli animali non significassero di per sé quel che sono, ma gli animali non potrebbero neanche sopravvivere. L'uomo primitivo non avrebbe neanche potuto sopravvivere se le cose non avessero immediatamente significato qualcosa, a prescindere dal linguaggio. Se la realtà non significasse immediatamente la determinatezza che appare di essa. Qualcuno potrebbe voler difendere il rappresentazionalismo, ovvero l'idea che l'uomo e gli animali non conoscano direttamente il mondo esterno, presunto esterno, ma solo le loro rappresentazioni che quindi sarebbero una mediazione del mondo esterno. Ma anche per prospettare questo si deve presupporre una determinatezza che vada anche fuori dalle rappresentazioni. Perché si deve presupporre che vi sia un mondo esterno ed altro dalle rappresentazioni di cui le rappresentazioni sarebbero rappresentazioni. Inoltre non si capirebbe come una mente umana possa avere rappresentazioni particolari e molteplici se la realtà esterna ad essa fosse totalmente indeterminata, nel senso che fosse una realtà indistinta, una monade, una realtà, una sorta di monismo assoluto indifferenziato. Allora da dove sorgerebbero le rappresentazioni dell'uomo? Come mai avrebbe una rappresentazione molteplice delle cose? E' lo stesso piano mentale dell'uomo con le sue rappresentazioni. Ma sarebbe già una cosa che porrebbe una distinzione dentro la presunta realtà indifferenziata. Quindi la realtà non sarebbe già di per sé indifferenziata perché ci sarebbe da una parte la presunta realtà esterna indifferenziata. Poi vi sarebbe la mente umana che avrebbe una molteplicità di rappresentazioni che rappresenterebbero a questo punto una realtà falsa perché rappresenterebbero il mondo esterno come se fosse molteplice e però in realtà il mondo esterno sarebbe una monade, una sorta di realtà unica indifferenziata. Ma anche ammesso e non concesso la realtà non sarebbe pienamente indifferenziata perché al suo interno vi sarebbero delle menti umane che avrebbero un contenuto diverso da quella indifferenziata realtà. Avrebbe un insieme di rappresentazioni che non sarebbero indifferenziate e che si distinguerebbero dalla realtà esterna. Quindi ci sarebbe sempre una determinatezza che andrebbe anche fuori dal mondo delle rappresentazioni. Perché se non vi fosse una determinatezza che andasse fuori dal mondo delle rappresentazioni, le rappresentazioni non potrebbero apparire come determinatamente molteplici se non fossero distinte dalla presunta realtà indifferenziata. Apparirebbero come la realtà indifferenziata. Il fatto che in questa ipotesi non appaiono come la realtà indifferenziata è possibile solo se vi è una differenza tra la realtà indifferenziata presunta e le rappresentazioni che appaiono evidentemente come morteplici e diverse. Quindi tra l'altro andrebbe anche chiarito che la morteplicità appare. Perché se non apparisse non potremmo neanche negarla. Che appaia è ovvio, è evidente. Non si può dire che è una persuasione. Perché nell'esperienza che abbiamo appare veramente una differente gamma di essenti, significati e determinazioni. Anche se si volesse dire che è un'illusione mentale, ammesso e non concesso, ma questa illusione mentale esisterebbe da qualche parte nella realtà totale. E quindi ci sarebbe all'interno dell'illusione mentale che sarebbe parte della realtà davvero ci sarebbe una differenza di determinazioni, vi sarebbe una molteplicità. E allora la molteplicità c'è comunque, non la si può negare. Si può dire che non è la realtà di base forse. Forse. Fino a un certo punto ma non si può arrivare poi a sostenerlo pienamente. Anzi, viene negato dal discorso di Severino alla fine. Ma questo non vuol dire che non ci sia un'unità di base che include tutte le differenze ma che appunto quell'unità sia un'unità semplice che annulla ogni differenza e quindi la molteplicità. Allora perché ho esaminato l'ipotesi di una realtà esterna indifferenziata? Per mostrare che persino in questa estrema ipotesi non si avrebbe una realtà pienamente indifferenziata. Vi sarebbe comunque l'opposizione del positivo e del negativo persino qui. tra la realtà mentale interna e le sue rappresentazioni molteplici e diverse e la realtà esterna. nessuna ipotesi della realtà riesce ad essere al di fuori dell'opposizione. Nessuna ipotesi della realtà proprio da un punto di vista ontologico metafisico riesce ad essere al di fuori della significanza originaria mi azzarderei addirittura a dire che analizzando la situazione impossibile di una realtà indifferenziata se noi potessimo vedere una realtà indifferenziata averla davanti persino in quel caso essa non riuscirebbe ad essere pienamente indifferenziata e soprattutto insignificante non avere alcun significato perché nel momento in cui apparisse così non avrebbe altro modo che essere in quel modo che significarlo se la realtà indifferenziata fosse indifferenziata ma non significasse in alcun modo l'essere indifferenziata dovrebbe per forza apparire come differente cioè come molteplice quindi come differenziata volevo dire e quindi come differente dall'essere indifferenziata cerchiamo di immaginare per astrazione una realtà lo so un piano bianco infinito che è la forse la rappresentazione più vicina all'idea di una realtà indifferenziata ma questa realtà apparendoci come potrebbe non significare la presunta insignificanza che essa dovrebbe tra virgolette avere cioè voglio dire anche se fosse insignificante significherebbe nel suo impossibile apparire a noi alle nostre coscienze come significante quella sua insignificanza e quindi non riuscirebbe mai a non essere significante in alcun modo se non significasse l'indeterminata e indifferenziata realtà che dovrebbe essere come potrebbe apparirci come indeterminata e indifferenziata non ci apparirebbe non ci apparirebbe allora non apparirebbe nulla per cui questo discorso mostra che qualunque realtà appaia a noi è certamente significante pur se fosse indifferenziata e indeterminata apparirebbe come significante quella insignificanza è determinata nel suo essere così e non in un altro modo e quindi in realtà non riuscirebbe ad essere indifferenziata e indeterminata e insignificante quindi questo argomento mostra come e questo argomento è sempre ripreso dalle tesi di Severino dal loro nucleo essenziale dalle implicazioni della struttura originaria come nessuna realtà riesca ad essere insignificante e non determinata